Ragazzi è finita la partita, Selenitana Lecce 1-1, due punti persi, senza dubbio due punti persi, una partita che potevamo tranquillamente vincere per le occasioni create, per il ritmo di gioco che abbiamo avuto, perché abbiamo sempre e costantemente avuto il pallino del gioco, la Selenitana si è chiusa a Ricci in difesa, ha parcheggiato due busso davanti alla porta, ma questo lavoro, anche lavoro sporco, perché comunque magari facendo falli tattici eccetera ha portato la Selenitana a portare a casa un punto, e guardando un po' le statistiche comunque sembrava una partita dominata, ma così è stato, solo che non abbiamo avuto quel piglio giusto per poterci portare a casa la partita. Suppiamo gol sulla prima, praticamente occasione della partita da parte della Selenitana, con un gol di Capelli, poi troviamo il pareggio sul rigore, non ho visto bene l'azione, perché se ho guardato la partita ho avuto un po' di problemi, cioè basta che soluzioni, qualche problema quella, non ho visto assolutamente l'azione del rigore, ho visto bene il rigore di Mancoso, che ancora una volta è magistrale dagli 11 metri, sempre il nostro capitano, sempre. Poi abbiamo anche qualche occasione, poteva fare meglio gli Stovski su quell'occasione, stava da solo, ci ha messo 30 ore per calciare, mannaggia a lui, e niente. La Selenitana ha avuto un'altra occasione sull'1-1 con Tutino, per fortuna la palla è uscita, e dopo, diciamo, se ti recupero, la partita finisce così. Un buon pareggio, ma ci lascia con la mare in bocca, perché potevamo tranquillamente portarcela a casa la partita. Unica cosa, il pettinare non mi è piaciuto, molto falloso, sì, il pettinare è buona tecnica, ma serve di più per poter fare bene nel Lecce. E Stovski ha appena entrato, ha rischiato grosso, perché c'è stato un fallo di reazione brutto su Aya. L'ha dato del giallo, ma era da arancione rosso, ecco, quindi calma, calma, calma. E niente, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, e ciao a tutti. Grazie. Grazie.